Nel nuovo romanzo Letizia Vicidomini tratta la storia di Simona, una ragazza molto fortunata, con una famiglia benestante, un padre avvocato, una madre che viene dalla Napoli bene ed un talento naturale per la danza classica. La vita di Simona scorre sui binari ben lubrificati del danaro, circondata dall'affetto ed avviata da una carriera luminosa nei teatri più prestigiosi, fin quando l'ingranaggio si inceppa. Massimiliano, il marito ballerino, nonché partner al Teatro San Carlo, manca una presa e Simona crolla sul palcoscenico fratturandosi i talloni. Da quel momento tutto si tinge di nero. Sta per partire per Torino, il Salone del Libro. Un'esperienza molto molto forte, di impatto e poi formativa perché al Salone, questo è il secondo anno che ci vado, perché l'anno scorso c'ero stata con La Poltrona di Seta Rossa. Quest'anno ci ritorno con Nero, Diario di una ballerina, sempre per Homo Scrivens, che è questo editore molto giovane e pieno di idee e di iniziative napoletano. Più che un editore si tratta di un gruppo di scrittori che, insomma, nell'editoria la sanno lunga. E dicevo, già l'anno scorso fu un impatto molto forte perché trovarsi poi a contatto con un numero imprecisato di scrittori veri, quelli grandi, è già, insomma, qualcosa che fa tremare un po' i polsi. Ritornarci con una consapevolezza maggiore è ancora meglio perché so come gestirò questi due giorni in cui sarò lì, sabato e domenica. Anzi, invito, se ci sono amici che hanno voglia di farsi un weekend a Torino, non soltanto per la Sindone, c'è anche il Salone del Libro. Insomma, mi farebbe molto piacere incontrarli. Essere poi, tra l'altro, acquistata allo stand da persone che non ti conoscono, per le quali sei una perfetta sconosciuta, è una grande soddisfazione. Che cos'è Nero, Diario di una ballerina? È un viaggio introspettivo, è un noir psicologico. Questo è il mio primo esperimento di storia noir. Gli altri erano romanzi più improntati alla saga familiare. Questo invece è un noir che ci porta, o almeno così ho tentato di fare, nell'animo e nel percorso corruttivo di quest'animo che è quello della protagonista, ossia Simona, una ballerina di danza classica. Questa ragazza che nasce con una vita felice, alla fine, ad un certo punto, vedrà calare un drappo, un velo su questa vita e sulle sue vicende e quindi poi tutto diventerà nero. Come si fa a diventare scrittore? Si nasce, si impara qualcosa per strada e soprattutto come si fa poi a pubblicare qualcosa? Secondo me si scrive perché si ha voglia di leggere. Io ho avuto una madre che leggeva di tutto e che quindi mi ha trasmesso questa grande voglia di farlo, per cui quando leggi ti viene voglia di essere capace, come chi stai leggendo, di dire e spiegare e coinvolgere le persone, insomma di raccontare storie. Quindi questo è il primo passo. Poi un attimo di propensione alla scrittura ce la devi avere ovviamente e inizi a sperimentarla. Poi incominci a rivolgerti a quelli che sono poi gli operatori e quindi diffidate delle pubblicazioni a pagamento perché quelle secondo me non hanno senso, altrimenti ci si sonvenziona da soli e non ha senso. bisogna trovare un editore che creda in quello che scrivi. Il successo vero è anche un colpo di fortuna, nel senso che bisogna riuscire a beccare con il libro giusto anche la piazza giusta e l'editore giusto.